e rieccoci carissimi amici di GRP al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor dottor Torchio che saluto buongiorno a tutti buongiorno a lei ovviamente con la giusta distanza di sicurezza e con le nostre mascherine sempre alla mano dunque dottor Torchio con lei oggi volevo parlare di una patologia molto importante per le donne e cioè è anche comune purtroppo e cioè l'endometriosi l'endometriosi che è una patologia purtroppo pesante anche perché da questa patologia possono scaturire tutta un'altra serie di malattie quindi volevo chiederle di fare un po' di chiarezza su questo argomento e anche insomma un po' la prevenzione come ci si deve comportare quando si ha questa patologia qua sì cercherò di essere molto rapido perché è un problema veramente importante per la donna allora l'endometriosi colpisce almeno il 6-10% della popolazione femminile intorno ai 30-40 anni soprattutto le persone che non hanno avuto gravidanze ed è caratterizzata dall'espansione del tessuto interno uterino della mucosa uterina che è la mucosa normalmente mestruale al di fuori dell'utero e questa mucosa può andare a rivestire parzialmente la parte posteriore vaginale, la vescica, l'intestino e creare ovviamente anche dei sanguinamenti ma anche formare delle cisti con la necessità poi di fare degli interventi chirurgici di asportazione è una malattia subdola perché non viene diagnosticata facilmente a volte sfugge anche dai controlli ginecologici attenti quindi a volte quando si manifesta vuol dire che è già in stato abbastanza avanzato è caratterizzata soprattutto dai dolori e eventualmente dalle perdite di sangue, delle perdite ematiche allora ci può essere una predisposizione genetica ma le cause non si conoscono bene sono state anche oltre alle alterazioni ormonali che sono le prime implicate in questo problema sono state anche implicate altre cose come per esempio gli interferenti ormonali presenti in tutti i cibi perché abbiamo un sacco di cibi industriali che hanno sostanze chimiche che interferiscono con i nostri ormoni la plastica per esempio delle bottiglie, i diftalati sappiamo che interferiscono sia nell'uomo che nella donna anche l'abuso ovviamente lo stile di vita, l'abuso di alcol, tutto quello che vogliamo sicuramente però il problema è la difficile diagnosi e soprattutto il fatto che questa malattia possa progredire magari rendendo poi difficoltosa una gravidanza quindi una malattia da prendere seriamente sotto stretto controllo medico-ginecologico ovviamente la terapia è fondamentalmente una terapia ormonale ma noi possiamo anche utilizzare contemporaneamente col permesso del ginecologo ovviamente i prodotti naturali che sono quelli che si utilizzano nei scompensi ormonali minori nella dismenorrea e cioè per esempio l'agnocasto che è un'erba che ha un'azione regolarizzante del ciclo il rubus, il rubus che ha un effetto di diminuire le mestruazioni diciamo molto troppo abbondanti quindi di diminuire le perdi tematiche visto che sono una caratteristica dell'endometriosi anche l'inositolo abbinato all'acido folico che viene spesso come integratore utilizzato per le cisti per esempio all'ovaio e le irregolarità mestruali anche questo può essere molto utile ricordiamoci gli omega 3, qui parliamo di alimenti, gli omega 3 hanno effetti molto lenitivi hanno effetti antinfiammatori, io vi ricordo l'olio di lino ma soprattutto per la donna l'abbinamento di olio di borragine e olio di enotera oli che possono essere trovati anche sciolti in genere un cucchiaino da caffè molto piccolo di borragine e uno di enotera assieme a un cucchiaino di olio di lino giornalmente possono migliorare la situazione generale e l'equilibrio ormonale della donna parlando in questo caso ovviamente di alimenti che non sostituiranno mai i farmaci ma possono essere un ottimo aiuto ricordiamoci che abbiamo anche per esempio la dioscorea la dioscorea è un'altra erba che ha un effetto diciamo ormonale moderato ma che può riequilibrare questa situazione il fieno greco, lo zinco stesso che stimola il sistema immunitario poi abbiamo anche la curcuma che come spezia può essere utilizzata sempre in ambiente oleoso e ricordiamoci che nella dieta mettiamo pure i semi semi di lino, semi di zucca perché hanno un'azione anche questa antinfiammatoria generale ricordiamoci l'avocado, l'avocado è un frutto ricchissimo di grassi buoni gli omega 3 ha anche una funzione di regolare il ciclo femminile e poi ricordiamoci il mirtillo che migliora la vascularizzazione e sempre le verdure amare che sono depuranti invece facciamo molta attenzione appunto a tutti gli alimenti industriali che hanno questi interferenti ormonali, caffè, troppo caffè, alcolici, sigarette tutto quello che purtroppo sappiamo non è qualcosa di... non sono amici della nostra salute grazie dottor Torchio per i suoi preziosissimi consigli a casa vi ricordo che se volesse rivedere una delle nostre puntate basta andare su youtube e digitare consigli del dottor Torchio più il nome dell'argomento della patologia al quale siete interessati noi vi auguriamo un buon proseguimento di visione grazie a tutti